È in un non precisato paesino della provincia italiana che prende il via la narrazione di Rock'n'Rust, il secondo romanzo dello scrittore abruzzese Walter Miraldi, pubblicato da Lupi Editore. Siamo in un'estate degli anni Ottanta e un arbitro fischia l'inizio della più importante partita di pallone che un ragazzo si appresta a giocare, nel tentativo di conquistare la vita, iniziando il viaggio tra le rovine di un agosto fatto di ruggine e di echi rudi di un passato remoto. Nato a Castel di Sangro nel 1975, Walter Miraldi è professore e scrittore. Collaboratore del quotidiano Nuovo Molise oggi ha scritto anche per il Teatro di Gioia di Dacia Mareini. Il suo esordio narrativo arriva con il romanzo Aguante e Hannibal, edito da Portofranco, a cui ha fatto seguito Rock'n'Rust. Ed è proprio nella sua città natale, Castel di Sangro, che ha ispirato anche alcuni momenti della sua narrativa che incontriamo lo scrittore Walter Miraldi per chiedergli di parlarci dei suoi romanzi. Si tratta di due romanzi di formazione, se proprio vogliamo andare sul tecnico, ma a me piace definire i romanzi di deformazione. Insomma, non fosse altro perché chiedo al lettore un patto, il fatto di creare una sorta di transurfing con l'autore, e cioè ogni lettore può costruire la propria lettura come meglio crede, sia nei quattro capitoli di cui si compone il primo, Aguante e Hannibal, una storia di un ragazzo in quattro città, Roma, Brasile in generale, Gerusalemme e poi Lisbona, sia nei 38 micro capitoli del secondo, Rock'n'Rust, che si possono leggere come dei paragrafi e comporre a piacimento. Quando ho scritto il secondo, in realtà ho indagato le radici del primo, cioè si dovrebbe leggere prima il secondo e poi il primo, perché il protagonista del primo libro è diventato bambino nel secondo libro e siamo andati ad indagare le radici da cui tutto è nato. Insomma, la cosa che mi è piaciuta di più è che dopo un anno e mezzo dal secondo libro, dopo tre anni dal primo, ancora se ne parli, noi dobbiamo considerare che il mercato librario italiano è strasaturo, escono qualcosa come 500 copie, 500 libri al giorno, molti dei quali non vendono le 50 copie. Mi ricordo insomma delle recensioni di questo libro, la cosa più importante che mi è capitata quando qualcuno ha definito questo libro qualcosa che ricordasse degli elementi di John Fante. Ciò che è stato la polvere per John Fante è stato scritto e la ruggine per il secondo mio libro, insomma io di questo sono ovviamente molto soddisfatto. Vorrei far notare anche la copertina del libro che è assolutamente un'opera d'arte inedita di un artista, anche lui di Abruzzese, di Ortona, si chiama Orlando Lacquet e l'interesse per questo libro è stato suscitato anche dalla bellezza, secondo me, di questa copertina.